Chiara! 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 Irai a la cárcel una settimana, ma che ti offro a cambio? La salute di tua madre. La pobre è molto enferma, vero? Però io ti ho avuto il miglior especialista di México. Con tuo sacrificio vas a salvar la vita di tua chefa. Quando salgas di la cárcel vas a tener più di più di più di più di più di più. Non lo so mai. Ya perdiste a tua hermana. ¿Quieres perder a tua madre también? Hijo de puta. Pégame. ¿Qué te pasa, hijo de puta? Pégame, venga. Pégame. Demuestra que tienes los huevos para ir a la cárcel y salvarnos a todos. Venga, pégame. Pégame. ¿Me estás llorando, putito? Alex. Por favor, Wiltia. Pégame. Pégame. Pégame.